I medici cremonesi hanno le capacità professionali per potenziare le risposte alla pandemia. Alla luce dell'esperienza della raccolta firme da parte di professionisti e anche di cittadini, che ha raggiunto ormai un numero considerevole, l'ordine dei medici provinciale chiede risposte circa ai piani e gli interventi intrapresi fino ad ora in campo sanitario. L'iniziativa che è nata da poco, da un poco più di un mese e che ha avuto un'adesione all'inizio di una settantina di pazienti, di colleghi, adesso siamo arrivati intorno ai 500, perché ci sono, hanno firmato anche alcuni cittadini. Ecco, questo ci ha fatto pensare che era giusto trovare dei nuovi canali e delle sollecitazioni per ripresentare questa iniziativa. Iniziativa che ha lo scopo, ecco, principale di poter far mettere in gioco tutte le professionalità e quindi, ecco perché abbiamo fatto questo documento, per combattere questo coronavirus e poi anche, perché ci sembra giusto, che possiamo partecipare anche a una riorganizzazione del sistema sanitario cremonese. C'è dunque bisogno di rafforzare la risposta sanitaria? Potenziare e soprattutto accettarla, accettarla nel senso di stabilire con i medici dei contatti da parte ovviamente delle istituzioni, istituzioni locali, sanitarie e anche civili. Cosa manca, infine? Spero che questa occasione sia un aprire una porta ad un dialogo che fino ad oggi è rimasta abbastanza nascosto. Iniziativa